Il mio singolo che è uscito un po' di tempo fa che si chiama Lavori Imperfetto e che diciamo anticipa un lavoro invece che stiamo facendo con calma di un cd di adesso che dovrà uscire a breve con vari singoli, vari cover che vengono fatte. È nato dalle tue esperienze questo singolo? Allora la canzone non l'ho scritta io però sicuramente la persona che l'ha scritta anche se un po' di tempo fa l'ha scritta dopo una bella chiacchierata con me quindi comunque è un testo rappresentativo di me stessa. Per ora resto un interprete e cerco di fare al meglio questo sperando che un giorno possa avere la vocazione di scrivere anche io. Il senso di tutto, l'amore imperfetto Grazie!